Assessore Borrelli, in che modo il Comune e l'amministrazione comunale di Bra può continuare a stare vicino alla squadra e quali sono i rapporti tra la società e l'amministrazione? Sicuramente i rapporti sono rapporti consolidati negli anni, io ho la fortuna di essere l'assessore allo sport a sette anni, quindi ho avuto modo di seguire tutte le vicende sportive di questa società negli ultimi sette anni. Una società importante per il nostro territorio, una società nel quale è importante l'aspetto agonistico ma soprattutto importante la crescita dei nostri ragazzi e quindi ho invitato proprio in occasione della conferenza stampa a investire nel settore giovanile che è l'aspetto su cui un'amministrazione comunale deve assolutamente investire. Al di là degli investimenti economici, al di là di quello che saremo in grado di fare anche dal punto di vista del sostenimento delle strutture, quello che è alla base di tutto è un rapporto fiduciario tra le parti, un rapporto in cui ci si confronta, ci si discute ma alla fine tutti andiamo nella stessa direzione. Quindi l'obiettivo è quello di stare insieme in questa stagione, una stagione che ci auguriamo possa essere importante, una stagione dove è stato bello vedere anche dei ritorni importanti, in particolare quello del mister Daidola.